Bene amici di Automoto.it, inauguriamo questo angolo delle applicazioni, applicazioni relative all'ambito dell'automotive a 360 gradi e partiamo con un'app che non può mancare sullo smartphone di ogni automobilista consapevole. Qual è? È Prezzi Benzina. Si trova disponibile nello store di Android, si trova disponibile nello store di Microsoft, quindi compatibile anche con i telefoni Windows e anche nello store di Apple, quindi compatibile anche con iOS. Ma cos'è Prezzi Benzina? Fondamentalmente è un database sempre aggiornato, aggiornato soprattutto dagli utenti, dei prezzi della benzina che potete trovare nei vostri intorni. Allora, ovviamente è possibile con la geocalizzazione sapere attorno a noi quali sono i distributori, si può filtrare il tipo di distributore in base al carburante che dobbiamo inserire nella nostra vettura, quindi GPL, metano, gasolio, piuttosto che benzina. Una volta selezionato il distributore, tra l'altro molto bella la possibilità di visualizzare a colpo d'occhio quelli più economici, vedete, sono indicati in verde oppure quelli più cari indicati in rosso. E già da questa schermata ci possiamo rendere conto come si può risparmiare davvero tanto utilizzando questa applicazione, perché per esempio guardate qua, nell'arco di, non so, saranno 200 metri, c'è un distributore che la verde la fa pagare 1,44€, mentre un altro che la fa pagare 1,62€. Noi siamo masochisti, vogliamo andare in quello che costa 1,62€ e cliccando sul tag possiamo visualizzare il costo, la scheda e navigare verso il distributore. Gli aggiornamenti dei distributori sono abbastanza tempestivi, dipende da quanta, da quanta frequenza, con quanta frequenza è stato visitato quel distributore, da chi ha questa applicazione, e qua un appello, un appello a installarla, a utilizzarle, a aggiornare i prezzi distributori, così che il servizio sociale sia utile a tutti. Nella scheda possiamo vedere anche se c'è il servizio servito oppure se il service, gli orari del distributore, se andiamo qua ci sono altre funzionalità, la mappa per visualizzare tutti i distributori, il filtro per i distributori più economici, possiamo vedere i distributori più vicini, noi possiamo dargli un raggio, vedete, entro 1 km, entro 2 km, entro 5 km, 3, e ci fa vedere tutti i distributori ordinate in base al prezzo del carburante. Oppure possiamo filtrare per gli distributori, togliere quelli autostradali, togliere quelli ordinari o togliere quelli marittimi. Qual è una funzionalità che mi è piaciuta tantissimo di questa applicazione? La verifica dell'assicurazione, quindi se abbiamo un veicolo che non ci convince tanto, oppure siamo stati tamponati, abbiamo avuto un problema con un veicolo, possiamo inserire la targa e vedere se quell'autoveicolo è assicurato. L'altra funzionalità che mi è piaciuta tantissimo è questa, ovvero la possibilità di attivare la funzione dove ho parcheggiato. È completamente automatica questa funzionalità, ovvero basta che l'applicazione sia installata e noi gli abbiamo dato l'ok alla geolocalizzazione, quando parcheggeremo l'auto lui capirà in base a suoi algoritmi che abbiamo parcheggiato e quando ci allontaneremo a piedi lui capirà che lo stiamo facendo e ci proporrà il percorso per tornare a piedi o in auto a dove abbiamo parcheggiato la macchina. Comodissimo per chi abita nelle città e tutti i giorni non ha un box, parcheggi in un posto diverso e si dimentica sistematicamente dove ha parcheggiato, succede al sottoscritto veramente spesso. Oltre a questo, possibilità di condividere tramite Facebook, valutare l'applicazione e anche filtrare la mappa per i vari carburanti, vedete, ve l'ho detto prima. Insomma, un appello, usatela perché più siamo a usarla, più avremo un database preciso dei distributori di carburante, usatela anche per risparmiare.